ciao e benvenuto ad un nuovo aggiornamento di bttd6 io come sempre sono manula e oggi vediamo una piccola anteprima uscita quattro giorni fa su twitter di ninja kiwi in cui fanno vedere il territorio conteso il post di ninja kiwi dice esattamente che mancano ancora diverse settimane ma ecco il concept art aggiornato come un'anteprima grafica per il territorio conteso e di rimanere sintonizzati quindi non sappiamo ancora quanto tempo ci voglia perché questo aggiornamento esca come possiamo vedere dall'immagine sopra abbiamo la nostra isoletta e siamo ipoteticamente in questo caso il team blu con il nostro soldato le nostre torri e tutto quanto l'aereo che gira vi è il pulsante cooperativa quello in basso a sinistra è un pulsante con una freccia che non so assolutamente che cosa possa essere leaderboards ossia la classifica che potrebbe essere derivante da le gare potrebbero essere gare tutte queste cose qui non si sa il pulsante per iniziare una sfida e come vediamo da sotto vi è un territorio sembra un esagono questa questa figura quindi ci saranno ipoteticamente o sei persone o sei team che si sfideranno per mantenere il territorio come vediamo noi siamo il team blu e abbiamo conquistato quelle piccole zone lì sembra che ogni piccolo esagono sia una mappa da giocare qui sono dei territori neutrali come si vede dalla partita che bisogna iniziare per per riuscire a conquistarlo nient'altro vediamo che c'è un team viola e un team rosa che stanno facendo le loro strade e anche un team giallo che ha conquistato la maggior parte del territorio ipotizzo che quello verde sia neutrale ci sono delle rocce della neve dell'acqua credo che siano relative magari alla mappa in cui si trovano quindi uno è piacioso uno dove c'è la neve qui dell'acqua probabilmente perché c'è la fontanella ci possono essere varie modalità a questa sfida o potrebbero essere delle corse che legare a chi finisce prima per questo potrebbe essere la classifica nell'immagine sopra oppure semplicemente potrebbe essere come facevano in monkey city ossia chi faceva il round più alto nella partita seguendo determinate regole il problema che questo porterebbe a fare partite molto lunghe sarebbe più comodo che fosse tipo in team visto che è più facile a questo punto riuscire a conquistare più territori piuttosto che start a giocare singolarmente e però di questo non abbiamo nient'altro se non queste informazioni tranne che proprio oggi ho visto in blues pop è uscito un aggiornamento e l'aggiornamento ossia si chiama questo guasta peste qui siamo facciamo parte di una squadra abbiamo 13 biglietti ancora da utilizzare e 18 territori conquistati noi facciamo la squadra rosa qui abbiamo la classifica di tutti quanti quanti punteggi di territorio sono stati conquistati tra le sei squadre che vi sono qui abbiamo altri quindi 13 biglietti utilizzabili per fare delle sfide vi sono come vediamo altre cinque squadre che stanno cercando di conquistare il territorio quella viola ha fatto praticamente niente quella nera quella verde un po blu quella rossa sembra ancora abbastanza forte come vediamo ci sono dei premi in determinate zone vi sono la conquista del territorio che bisogna superare un determinato punteggio dopo tipo 24 ore torna neutrale quindi bisogna superare il punteggio per riuscire a conquistarlo ci sono tanti premi al centro praticamente è questo è la base secondo me di come sarà il gioco di territorio conteso in btd6 quindi tante squadre che cercheranno di conquistarsi il territorio facendo sfide il problema che qui sappiamo già come può essere perché sono effettivamente le sfide normali qui per poter conquistare un territorio bisogna esserci accanto quindi non posso mica andare io che sono rosa a prendere questa cosa qui devo stare semplicemente in quelli vicini ad esempio provo a conquistare questo territorio qua per collegare i due rosa qui e qui c'è la nostra partita da poter giocare e se facciamo un punteggio qualsiasi conquistiamo il territorio finché non ce lo rubano adesso andiamo avanti molto velocemente e come vediamo qui dopo aver finito la partita 6400 punti e il territorio diventa nostro ho preso il palloncino visto vinto cose va bene nessun problema e quindi più territorio e più tempo rimane in nostro possesso territorio più punti guadagna l'altra squadra e quindi più vinciamo ci sono delle ricompense a seconda se vai primo o secondo a posto anche a seconda di quanto te nella stessa squadra vinci e direi che per questo aggiornamento per un futuro BTD6 ci siamo questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti